Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui con la live reaction di Udinese Lazio. Prima però voglio invitarvi ad unirvi al gruppo Telegram di Chi Calcio, link nel primo commento di questo video insieme a tutte le altre informazioni sul sito web, perché nei prossimi mesi, almeno una volta al mese, ci sarà un'estrazione attraverso la quale tre fortunati di voi vinceranno dei premi sotto forma di maglia da calcio e quant'altro. Tutte le informazioni vi verranno date appunto nel gruppo Telegram, quindi unitevi cliccando sul link che trovate nel primo commento di questo video. Ti prego eh! Ti prego se vieni! Anche perché non ci sono centrocampisti! Eh appunto! Oh! Perché non tiri? Ma perché non ti... perché gliela ripassi? Ma come è un buon'idea di Luis Alberto? Ma no, ma... L'ha passata indietro invece di tirare! Mamma mia! Bello! Ah! Era bello! No, ma non è fuorigioco, non dire cazzate! Guarda, è fuori! Regà, ma veramente! Questi sono già due ammunizioni inondate! Andate! Sono due ammunizioni inondate! Ma che dici? Venite! Andate! Ma scherzi! Devi rompergli i coglioni! Ma come fa la Roma? Tutti là intorno! No, no! Anche senza dire niente! Così! È intanto l'unica maniera... Ma guarda che però... Ma è vero che devi fare così! Bravo! Dai! No! Ma che cazzo di palla è? No! Ma che cos'è? Basta! Ma stifo! Ma a questo punto tira, no? Se devi fare una cosa reggione! Tira! Tira all'esterno! Non ti voglio per scambiare! Io te l'ho detto! Potrei così! Mamma mia! Bene, male, non importa! Cioè! Lì, la spalla! Ma grazie a Dio! Lai in profondità! Guarda questo! Dai, vai! Dai! E porca troia! Però lo ammovirai? Porca... Sì, lo devi ammonire, lo devi! Guarda che entrata che ha fatto questo! Lo centra benissimo! Ma hai visto che entrata ha fatto? Ma non lo ammonisce adesso! Non lo ammonito! No, dai, non scherzate! Non lo ammonito! Basta, regà! Non scherzate! Dai, veloce! Su! Veloce! E non lo spogliatorio! Se io sono un giocatore e vedo questo idiota che ogni volta ci provo, vado a lei e ti do una stecca in faccia e la prossima volta che ci riprovi, ti faccio vedere io che ti faccio a fine partita! Capito? Invece lui continua a tirare, tutti i zitti stanno! Cioè, come se ti è a Napoli, che ne so, che ne so, dimmi il nome di un tuo compagno di primo, uno a caso! Quasi Lorenzo! Ecco, Lorenzo batteva quattro corner, tutti male, tutti di merda! E tu te lo fai notare, per sei anni continua a battere i corner di merda! Al settimo anno, gli ha la dana pizza! Gli ha la dana pizzone, infatti c'è la prossima volta che sbatti i corner così, ti sfondo! Non ci posso credere! Cosa fa? Che che staccio a dire? Che lo vengono! Oddio! No! Era buona! Era buona! Se non avesse seguito quello, se lo cagava, ovviamente! Ovviamente! Date la saccagna, dai! Bravissimo! Però uno dentro, regà! Uno dentro! Per favore! Oddio! Ma parca! Porca troia! Gliel'ha fatto come che era a Napoli! Guarda! Porca troia! Guarda a Napoli che l'aveva messa, guarda, guarda, guarda l'ha cacciato! È una normalità, uno che sa tirare in porta a Napoli aria, però, eh! Eh! Era interessante! Che continuava a dire perché torna indietro? Perché c'era così il lui? Il Napoli giocava così? No! Sì, il Napoli giocava così, se mai ti... No, il Napoli di Sarri non giocava così! Il Napoli di Sarri giocava così! Sì, soltanto il Napoli di Sarri aveva giocatori che correvano tutta la partita! C'è lo spazio per Miss Alberto! Tira col sinistro! Eeeh! Dai! Hai visto che cosa ha fatto il Silberta che ha chiesto... Ma ti ha toccato! Ti ha toccato! Sì, 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 però non l'ho visto molto convinto. Ma si è rimanerano, non l'ha toccato! Non l'ha toccato, non l'ha toccato, non l'ha toccato, non l'ha toccato, ma quando lo toccano non cade! Non cade, esatto! Cioè lui fa di tutto per rimanere in piedi, è una cosa fastidiosissima! In aria? Sì! Oh, lui non cascherebbe mai! È una cosa... Non devi struncare! Non fa la casca da tutte le aria, no? Immobile contro Silvestri! Con il numero di cattivo terzi di Gano! Sììììì! Dai! 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 Grande scelto! Dai! 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 Spiazzate la grande! Porco mamma mia! È incredibile! È incredibile! Non è il destino che noi segniamo sul calcio d'angolo? No! Ma hai visto che quando Luisa Alberto batte i calci d'angolo dall'altra parte, può tirare in porta questo che li batte? No, l'ha venuto! Siamo tre contro tre! Come niente! Niente! Ma come niente! Ma stiamo scherzando! Scusa ma... Niente! Cioè! Come niente! Ma questo è un bel! Ma l'ha letteralmente travolto! Stanno davanti Pedro! Dobbiamo fare oggi, oggi facciamo lezioni! Bello! Ma Milinkovic però! Ma che cos'è sta roba? Oh! Cioè non ha manco presa la palla! Non ha manco presa la palla Milinkovic, era buona! Buonissima! Era buona, era regolare, guarda che cazzo ha fatto! Non ha manco presa la palla! Ma prova a superare poi, prova a superare il portiere, no? No ma capisci, va perché noi falliamo gli obiettivi stagionali? Perché c'è gente che voleva... Ti ricordi, Caisero, Crotone? Stessa cosa, davanti al portiere si è messo a fare il cucchiaio! Sì! In una partita recisiva! Certo! Te ti permette! Panterone! Ma come ti permette? Non ti permette! Ma come ti capire? Ma come ti capire? Panterone! Ma stessa cosa! Ma non ti permetto di parlare! Stessa cosa! Stessa cosa è così! Stessa! Mi mi ridate alla grande! Andai, gli stanno! E' fuori gioco! No! Fuori gioco! 3 metri e mezzo! 3 metri e mezzo di fuori gioco! 3 metri e mezzo di fuori gioco! Non scherziamo! Non scherziamo! Non scherziamo, Brodio! Che gol! Ma che gol! Non sarebbe mai arrivato di questo pallone! Sì, però questo... No, no, lo so! Questa è una cosa imbarazzante ma è fuori gioco di 6 metri! 6 metri e mezzo di gioco! 6 metri e attaccavi al cazzo! Mario, si scelte quelli diagonali maledetto! Guarda te! Siate ancora che non avete imparato i diagonali! Mortacci vostra! Fili, noi non perdiamo mai tempo! Quindi non perdiamo mai tempo! Non perdiamo mai tempo! Non c'è più di giuro del daminario! Porta via! Calcio d'angolo! Si, quanto mai è stato ben contempo! Nessuno di più difensori fa a farlo! Dentroni! Si procura calcio d'angolo per l'esterno! Forse è l'ultima occasione... No, no, è una cosa insopportabile! E' finita! Senza favore! E' finita! Ma non ci posso credere! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Di 30 secondi più! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Non c'è il motivo! Nel senso che nei 4 minuti di recupero non c'è stato nessuna perdita di tempo! Dai! 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 Uff! Vaffanculo, va! Eh, siamo gli unici ad aver vinto Udine! Sì! No! Grazie a tutti.